Ormai l'estate è cominciata, fa caldo e quindi andiamo a fare ciccheccià Ciao a tutti ragazzi, io sono Virgins di Game Tonight e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su questa apertura di duellanti leggendari duelli delle profondità Che secondo me si doveva chiamare duelli dalle profondità Però a quanto pare hanno deciso di chiamarlo così Vi ringrazio come al solito i miei amici di Magic Corner Oh no ragazzi, per avermi fornito gentilmente questo box Ovviamente voi trovate qua sotto in descrizione il link al loro sito internet Dove potete acquistare prodotti sigillati e carte singole Inoltre avete anche il mio codice sconto che vi dà accesso a un codice sconto del 10% Su ogni singolo prodotto che sta acquistando non precedentemente scontato per il vostro primo acquisto Detto questo comunque ragazzi, io direi che è arrivato il momento di andarci a bagnare con questa roba Basta, basta, perché sta diventando cringe sta cosa Allora, 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 che cosa cerco da qui Prima di, cioè, provando ad aprire questo box Cosa cerco da qui? Ovviamente, penso che lo sappiate tutti Ovviamente io da qui voglio più Marineses possibili Tutte le Marineses nuove, perché il mazzo io ce l'ho già e alla massima Cioè, massima tra virgolette Comunque non ho cavaluccio marino Starlight Ce l'ho ultra, però è praticamente alla massima da pacchetto Quasi Quindi, io direi che le Marineses mi spettano di diritto Va bene Konami? Va bene? Andiamo a sbustare queste Marineses Classico box da 5 carte per bustina con la rara in fondo Classico led, insomma Vediamo che cosa ci capita Oceano della battaglia Marincipessa, bellissima Pascalus Fa male vederla common, però Pascalus Cuore di cristallo Pescata del caos di Barian E anello di bolle Marincipessa Che è una delle robe nuove di Marineses Abbastanza carina E mettiamo le super qui Le rare qui E le common le andiamo a mettere qui Qui ci andiamo a mettere le ultra eventuali Abbiamo praticamente cominciato con un pack full Marineses quasi Peccato che la super non era spring girl Che bello Che divertente Ovviamente tutte le ultra andano subito nelle sleeves Che ho qui prontamente al lato Ce li ho sempre Alza rango magico il settimo Balena cittadella Tributo torrenziale Common Uh eccola qui Marineses acqua argonauta E poi abbiamo Fanciulla assonnata Perfetto Perfetto Andiamo subito a mettere L'acqua argonauta Che in realtà è il supporto migliore Che è stato rilasciato in questo set Nella sleeve Cioè almeno secondo me È il mostro per eccellenza di Marineses Per quale motivazione? Perché Sarà un link 4 immune Che potrà andare a negare Quindi veramente una gran carta Nel momento che La rara è sempre l'ultima Io direi di mettere la super in fondo Allora Lanciere ragioniero La notura completa Squalo Motosega Remora Xyz Levi al dragone Dedalo E Attacco furtivo marino Ok va bene Abbiamo Questa roba Common Che in realtà È una ristampa Perché già esisteva L'eventuale super Dimenticavo L'eventuale super è ultima L'eventuale ultra Cioè penultima L'eventuale ultra è penultima Quindi vado a spostare a questo punto La rara davanti L'eventuale common super o ultra Furia di Kariushin Marin si Marin si pezza Marin si pezza Pascalus Numero 501 Oscurità Onore silente Bamut Shark Carino Squalo sciabola Ok Simpatico Bamut Shark Lo vado a mettere qui Non dovrei aver skippato nessuna Sul rara No infatti Non ne ho skippata nessuna Ok Sono tantissimi pacchetti Voglio che il video duri Il meno possibile In realtà Non voglio arrivare A farlo durare 25 minuti Quindi Onestamente Io preferirei andare Molto avanti Cioè il più velocemente Possibile in avanti Allora Balena cittadella Onda marin ci pesa Pescatrice silenziosa Squalo Doppie pinne E Damiger raga Mamma mia C'è un bruttissimo È rovinatissima qui Ma abbiamo trovato Spring Girl Perfetto Direi perfetto così La Spring Girl è arrivata Lemuria La città dimenticata Se volete ragazzi Un pensiero Per quanto riguarda Questo set Vi rimando Al video Che ho realizzato Qualche giorno fa In realtà Non c'è Memoria common Ste cose mi fanno male Non va affatto così Cioè io C'è Ce li ho tutte e due Secret C'è Secret Ce li ho tutte e due Ok Va bene per i supporti Però ste cose Mi fanno veramente male Mamma mia Allora Rabbia di Karyushin Numero C101 Oscurità Onore silente Alza Rango magico Chaos rapido Levia Dragone Dedalo E pescatore Leggendario Due I disegni di pescatore Leggendario Sono molto carini Peccato che Il mazzo Non sia nulla di che Assolutamente Ma va bene così Pescatore Leggendario Tre Squalo Motosega Lemuria La città Dimenticata Settima Eternità Cyber Squalo Ok Cyber Squalo Che tutto Sembra Tranne che Cyber Ma onestamente Chi sono io Per valutare Come si debba Chiamare sto coso Effettivamente Ma onestamente Mi sembra tutto Tranne che Cyber Attacco furtivo marino Lanciere Ragio nero Armatura Completa Remora Exis Furtivo Marino 2 E Roccia Marmoria Va bene Ok Ovviamente ragazzi Io Recapiterò Da questo Box Una bella Basetta Marine Incess Common Rara Non so Quanta roba Effettivamente Rara Ci sia Quindi Oh no È bruttissima Chirurgo Blue Common Quindi Vabbè Quindi nel caso Vogliate questa Basetta Ditemelo E me la porto Al nazionale Oppure Non lo so Ve la carico Su Carmarket Io Onestamente Più riesco a dare In massa Via Questa roba Che non mi serve Meglio è Quindi Bon Mi fa un po' Piangere Vedere Marine Se è completamente Common Quindi vorrei Liberarmene In tutta onestà Furtivo Marino 2 E Sonar Pesce Ultra Wow Umi Che bello Abbiamo un bellissimo Sonar Pesce Va bene così Ultra rara Ed è la seconda Ultra di 4 Mi pare Quindi va bene Abbiamo il Sonar Sonar Pesce Ci poteva essere Droplet Invece no Oppure La carta magia nuova Marincest Che non so come si chiama In italiano Squalo sciabola Onda marincipessa Lemuria La città dimenticata Anello di bolle Marincipessa Cyber squalo Ma io sto Schippando tutte le rare Sì Le sto assolutamente Schippando tutte le rare Le sto mettendo Nella parte dove non dovrebbero andare Ma va bene Adesso me le recupero Molto Velocemente E schippiamo subito Allora Dopo il Sonar Pesce Vediamo se ci troviamo Qualcos'altro Marincipessa Corri di Cristallo Furia di Carioshin Rabbia di Carioshin Fanciulla Sonata Sleepy Maiden Che ci sta E Cavalluccio Marino Vabbè poco da dire Su questa Questa era addirittura Starlight Ma vabbè Inutile che vi stia A riconfermare Ogni volta Che Mi fa piangere Sta cosa Oceano della batteria Marincipessa Squalo Motosega Balena Cittadella Ricircolo Marincipessa Squalo Cristallo Supporto Shark Quindi va bene Avrei preferito Una seconda Spring Girl Ma Va bene Lo accettiamo Anche lui Ci può stare Comunque Comunque Shark Interessantino Come mazzo Alza rango magico Il settimo Remora Xyz Pescatrice Silenziosa Una roba strana Marincipessa Cuore Del Meraviglie Abbiamo Gli ultimi Tre pacchetti Del Primo Lato Cyber Squalo Pescatore Leggendario 3 Numero 71 Squalo Rebarian Annello Di bolle Marincipessa E Alza rango Magico Caos Rapido Va bene Così Poi Con la penultima Busta Maledizione Che non si aprono Abbiamo Attacco furtivo Marino Frosto Saurus Che mi fa ridere Vederlo qui Ma va bene Nel 2022 Vabbè Recircolo E sistema Ascensione Che è un'altra carta Per quanto riguarda Barian Squalo E quelle robe lì Insomma Quindi ultra rara Che va messa In sleeve Assolutamente Quindi Abbiamo 3 ultra 3 super Ci dovrebbero mancare Tipo 2 super E una ultra Una roba del genere Non lo so In tutta onestà Non mi ricordo più Il pool di questo set Perché lo apro Veramente Molto raramente Pescatrice silenziosa Lanciere Ragionero Armatura completa Mare incipessa Roccia marmoria Aniamone corallo E pescatore Leggendario 2 Io direi Di far volare Il box E di Mettere qui Tutte le bustine Che dobbiamo andare Ad aprire adesso Per quanto riguarda Il lato di sinistra Mamma mia Se la situazione È problematica Allora Incominciamo Molto velocemente Sperando che Non vi accechi Tutta sta luce Ma non lo so Nel caso Abbassate l'umistare Il telefono Chec Chirurgo blu Tributo torrenziale Cavalluccio marino Ricircolo E Mega balena Fortezza Un'altra ultra rara Che penso sia L'ultima del box A questo punto Quindi se è l'ultima del box Male male Abbiamo trovato Soltanto Una ultra Di marinsess Malissimo E proseguiamo Speriamo che Non sia l'ultima In sostanza Potrebbero anche Essere cinque Ci potrebbe essere La ghost Anche se onestamente Dubito molto fortemente Vabbè Vediamo Marinsipessa Quelle delle meraviglie Angelo marino Pescatore Leggenda di Rue Squalo Vamut Ic Xis Cavaliere Nash Va bene Ok Carta nuova Per squalo Squale Interessante Va bene Marinsipessa Roccia Marmaria C101 Alza Rango Magico Chaos Rapido Sleepy Maiden Ok E cavalluccio Marino Va bene Abbiamo il playset Di Sleepy Maiden Che mi piace Come cosa Quelle Low Rarity Comunque abbiamo Abbastanza Copie Il problema Sono quelle High Grarity Lanciere Ragionero Il settimo Squalo Rebarian Furtivo Marino 2 Lemuria La città Dimenticata Va bene Così Andiamo Molto Velocemente Avanti Dato che Ormai Tutto il pool È praticamente Arrivato Direi di Incominciare A rushare Tutto Anche perché Qui si sta Creando una Situazione Veramente Imbarazzante Marincipezza Angelo Marino Frosto Saurus Furia Di Cario Shin Settima Eternità Chirurgo Blu Con questo Dovrebbero essere 3 Chirurgo Blu Va bene Quindi la base Di Marincest Non sta messa Proprio male Male Comunque Il Marincest Che già esisteva È praticamente Completo Forse No Crystal Heart Forse Ci stanno Abbastanza Quindi Ci può stare Attacco Furtivo Marino Oceano Della Battaglia Pescatore Legendario Lui non l'avevo trovato Fino ad ora Wow Squalo Bamuth Numero 71 Roccia Marmoria Squalo Sciabola Alza Rango Magico Caos Rapido Levia Dragone Ed Edalo E Kraken Il Destino E con questo Dovrebbe essere Finito il Pull Perché abbiamo 5 Super E 4 Ultra A meno che Non mi sbagli Ma io ogni volta In queste cose Mi sbaglio Lo dimostro Sempre Quindi vediamo Se ci stupirà Questo box Il settimo Tributo Torrenziale Frost Saurus Squalo Doppie Pinne Lemuria La città Dimenticata Va bene La città Dei muli Rabbia Di Karyoshin Cavalluccio Marino Onda Marincipesa Furtivo Marino 2 E poi Abbiamo Medusa Elettrica Quindi Abbiamo un'altra Super Va bene Carina Medusa Elettrica Ma nulla Decezionale Cioè comunque Parliamo di Umi Mi dispiace Dire Una cosa del genere Ma parliamo Pur sempre Di Umi Un mazzo Abbastanza Mediocre Marincipesa Pascalus Crystal Art Eccola qua Chirurgo Blu Squalo Doppie Pinne Squalo Motosega Va bene Che se non sbaglio erano già stati stampati common Adesso vengono ristampati common Motosega E L'altro non mi ricordo minimamente come si chiami Ma va bene così Angelo Marino Pescatore Legendario 2 Rabbia Di Karyoshin Marin Cipessa Anemone Corallo E poi abbiamo Squalo Sciabola Va bene C101 Oscurità Uno resiliente Pescatore Legendario 3 Onda Marin Cipessa Scogliera Oscura Di Karyoshin Va bene E Pescata Del Chaos Di Barian Quante super Stanno uscendo Siamo a quota 7 Super E le ultra Invece nulla Va bene Tra l'altro Non mi ricordo che cosa ci possa essere Di interessantissimo Nelle super A parte ovviamente Spring Girl Che interessa a me Balena Cittadella Oceano da Battaglia Sleepy Maiden E Chirurgo Blu Cuore delle Meraviglie Balena Cittadella Onda Marin Marin Cipessa Squalo Bahamut La Magia E Ultima Oceano della Battaglia Marin Cipessa Va bene Questa qua che Mi ha abbastanza stufato Che se ne scappava da mezz'ora Adesso la apriamo Qui si rimangono soltanto Le tre buste al centro Qui la situazione è Indecente Lemuria La Città Dimenticata Pescatore Legendario Frost Saurus Furtivo Marino 2 E Kraken il destino 8 Super Va bene 8 super 4 ultra Mi sembra leggermente Sbilanciata la cosa Molto sbilanciata in realtà Crystal Heart Il settimo Cyber Squalo Qua sta accadendo tutto Ricircolo Marin Cipessa E Tributo Torrenziale Ultime due bustine Vediamo Che cosa Ci Nasconde Il box Ma ormai penso che sia finito Praticamente tutto Infatti Bon Cioè Sì Saranno due common Queste Sicuramente E Bon Per quanto riguarda il box Penso che si debba già adesso Tirare una somma Attacco Furtivo Marino Squalo Sciabola Marin Cipessa Pascalus Anemone Corallo Xis C101 Oscurità Onore Silente E poi Ultima bustina Andiamo a vedere L'ultima common Che ci manca Dal set Comunque ragazzi Devo dire che Poteva andare di meglio Cioè poteva andare meglio Assolutamente Decisamente meglio Però Comunque considerando che Quello che c'è nel box E considerando che Comunque a me serve la roba Marin Cess Potevo trovare più roba Marin Cess Però Boh Comunque alla fine ci può stare Qualcosina l'ho trovata Lei Fondamentale L'ho trovata Quindi ci sta Squalo doppie pinne E l'ultima carta Che abbiamo Ah questa è foil E una ultra Signore dei draghi Dell'oceano Kariushin Ok la cover card Di Umi Praticamente Il nuovo Il nuovo Kariushin Va bene Quindi Ricapitolando Le ultra Che abbiamo trovato Sono queste qui Tutte diverse Abbiamo praticamente Tre carte Per quanto riguarda Shark No Due carte Per quanto riguarda Shark Due carte Per quanto riguarda Umi E una per Marin Cess Ok E poi Abbiamo Come super Pescata del caos Di Barian In due per Il kraken Il destino In due per Damage Ragazza Monocopia E poi Monocopia Sempre Squalo cristallo Cavaliere Nashk E Melusa elettrica Quindi Poco da dire E' stato Un box Mediocre Poteva andare Decissamente meglio Però Assolutamente Non mi damento Detto questo Comunque ragazzi Spero che questo Vi sia piaciuto Voi che cosa farete Di questo box Lo comprirete Oppure no Aspetto i vostri commenti Noi ci vediamo Come al solito domani Alle 15 Con un nuovo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi CiaoUNki